Catello Lambiase Buonasera, buonasera, grazie a tutti. Io sono Catello Lambiase, sono un medico e sostengo convintamente la candidatura a sindaco di Elisabetta Barone. Qualcuno prima mi chiedeva se è emozionato, sì sì, sono emozionatissimo perché questa piazza mi ha visto tante volte montare dei gazelle. Questa piazza mi ha visto tante volte chiedere le firme, avvicinare persone scettiche per chiedere una cosa che ci tocca, gli istituti di partecipazione, la cosa che più manca in questa città. Altre volte ho ascoltato dalla vostra parte dei candidati, delle persone che con coraggio ci hanno messo la faccia, che hanno sfidato un sistema che da 30 anni, un sistema marcio che da 30 anni amministra questa città. Questa volta, come dice Giovanni Falcone, ho deciso di metterci la faccia io, ho scelto di impegnarmi perché non sempre tocca a qualcun altro, questa volta tocca a me. E io vi prometto una cosa, l'ascolto, perché l'ascolto e l'interazione con i cittadini ci dà in modo incomprensibile a molti, ma comprensibile al Movimento 5 Stelle, la capacità di raggiungere delle soluzioni semplici ed efficaci, perché le soluzioni sono a portata di mano. Io sono felice di far parte di questa lista, io sono felice di appoggiare la candidatura di Elisabetta Barone. Grazie a tutti.